Il progetto fotovoltaico è un progetto che vede in campo una rete di cooperative sociali di inserimento lavorativo impegnate nel settore delle fonti di energia rinnovabile. Noi facciamo un investimento sulle nostre cooperative, sul nostro lavoro e offriamo ai cittadini con spese e costi al nostro carico un impianto da realizzare sui loro immobili. L'impianto sviluppa 4.500 kWh l'anno e questa energia elettrica è beneficiata, usufruita, utilizzata per intero esclusivamente dai cittadini. Il nostro investimento verrà ripagato esclusivamente dalla tariffa incentivante che eroga il gestore servizi energetici perché un impianto fotovoltaico a tutt'oggi costa parecchio. Quindi è un'opportunità per i cittadini. Il progetto si sta realizzando in diverse parti della Sicilia, in tutta la provincia di Catania, nella provincia di Siracusa, si sta realizzando anche a Palermo, verrà realizzato in una serie di comuni del Nisseno, del Ragusano e del Messinese. Quindi è un progetto etico, sociale, molto chiaro, trasparente, che vede da un lato noi, che patrocinati dalla Camera di Commercio di Catania, dalla provincia regionale di Siracusa a Siracusa e da altri enti, promuovono il progetto e che investiamo sul nostro lavoro, sulla nostra attività. Dall'altro vedono i cittadini, i cittadini che possono avere installato gratuitamente un impianto fotovoltaico di 3 kilowatt sulle loro abitazioni. Ciò cosa significa? Significa che risparmiano i costi dei consumi elettrici, non solo quelli attuali, ma possono utilizzare l'energia elettrica prodotta in più per abbattere i consumi elettrici che produrranno nei prossimi anni. Perché, ripeto, l'energia elettrica è beneficiata e utilizzata interamente dai cittadini. Unico costo per i cittadini è previsto una tantum solo ed esclusivamente dopo la verifica della fattibilità dell'impianto, cioè dopo la firma del contratto, che verrà versata esclusivamente dai beneficiari. Per tutto il resto è a nostro carico l'impianto, la sua installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto il periodo contrattuale e l'assicurazione contro tutti i rischi. Ma non solo, dopo 20 anni noi a nostro carico disinstalliamo l'impianto e lo smaltiamo. Quindi non lasciamo nulla a carico del cittadino. E fra l'altro non vingoliamo il tetto, perché noi siamo solo titolari dell'impianto e veniamo autorizzati dal cittadino a installarlo sulla propria abitazione.